Approvata all'unanimità dalla prima commissione consigliare la proposta di legge sull'istituzione della conferenza regionale per la programmazione d'iniziativa dei consiglieri Coviello, Piro, Quarto, Baldassarre e Cariello. Si tratta, come spiegato dal proponente Coviello della Lega, di un organo di natura squisitamente consultiva in attuazione dell'articolo 82 della legge statutaria regionale. La conferenza esprimerà un parere motivato sul documento di economia e finanza regionale. Inoltre fornirà alla Giunta regionale informazioni utili per la predisposizione del piano strategico regionale, sul quale è poi chiamata ad esprimere un parere consultivo e concorre altresì alla predisposizione dei provvedimenti di programmazione della Giunta. L'organismo, preseduto dal presidente della Giunta regionale e da un assessore formalmente a ciò delegato, si compone di 36 esponenti individuati tra le diverse categorie previste a norma dell'articolo 82 dello Statuto regionale, e quindi autonomie funzionali, categorie sociali, organizzazioni sindacali e del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato, scelti tra quelli aventi maggiore rappresentatività sul territorio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS